Vuoi lasciarmi? Anna... Non sembri tu. Che sta succedendo? Ok. Per favore, ripassami Willan. Le dia quello che vuole, faccia tutto quello che dice. Sì, signor Gray. Andiamo alla banca sulla First Avenue. Sì, signore. Rispondi. Rispondi, ti prego. Signora Gray, scusi per l'attesa. Signore, sua sorella è scomparsa. Non riusciamo a trovarla. Sono pesanti, Sam gliele porta alla macchina. Ok. Cazzo. Qualche problema? Posso fare una telefonata? Arrivi proprio al limite, Anna. Ho un problema. Lo so. Sei stata seguita fino in banca. Come lo sai? C'è una dojo Durango Blu con i vetri scuri parcheggiata nel piccolo. Sali, ti do tre minuti. No, ho bisogno di più tempo, Jack. Dai il cellulare all'autista. Ho paura che non ti servirà più. Devo usare la vostra uscita d'emergenza. Di solito noi non... Sì, signora Gray. E devo prendere il suo telefono. Grazie. Ha pagato la cauzione. Perché non mi avete informato? Detective, proprio il giorno in cui Ida esce, mia sorella sparisce e mia moglie preleva 5 milioni di dollari dal conto. Secondo lei è una coincidenza. Lise, sali dietro. Telefono. Signore, è sparita. È dentro una Durango Blu. Maledizione. Credo sia la stessa auto che vi ha inseguiti. Il suo telefono lo hanno buttato nel piccolo. Non è il suo telefono. Lo sto seguendo ed è diretto a est. Lisa, che stai facendo? Perché lo fai? Ti paga? Sta zitta. Sulla Quarta e South Michigan, diretti a sud. Tutto chiaro, centrale. Quarta e Michigan, a tutte le unità. Il veicolo è una Durango Blu diretta a sonda sulla Quarta attraverso Georgetown. Taylor, è qui. Sul ponte verso South Park. Oh mio, tia. Mia! No! No. Noo. Noo. Grazie.